salve amici e bentornati al canale charlie oggi andiamo a vedere insieme cosa fare quando cambiamo telefono quindi come trasferire tutti i nostri dati dal vecchio telefono sul nuovo telefono in questo caso andiamo a vedere come trasferire i dati dal huawei p30 pro verso un altro telefono android oppo find x5 pro prima di procedere voglio fare una piccola premessa sul telefono huawei p30 pro che io amo particolarmente tanto è l'ultimo telefono con i servizi google sono da circa quattro anni che ce l'ho è un telefono che era un top di gamma allora ma secondo me ancora oggi va veramente bene fotografie molto nitide e i video in 4k sono spesso quelli che vedete sul canale charlie quindi veramente un camera phone è un top di gamma siccome mi è caduto e si è ridotta la parte dietro quindi la back cover ma poco male ma si è ridotta anche la porta usb tipo c che serve per ricaricarlo diciamo che diventata un po ballerina e la batteria ha quattro anni e comincia a dare qualche piccolo piccolissimo segno di cedimento ho deciso di sostituirlo con un altro telefono e credetemi sono settimane che cercavo in internet un telefono che potesse sostituirlo premetto che io sono un anti samsung e ancora non sono pronto per tornare verso il mondo apple quindi cercavo un telefono android e capisse le stesse caratteristiche quindi uno zoom ottico da 5x una ricarica wireless inversa e perché no una porta a infrarossi e devo dire che non l'ho trovato però ho trovato questo bellissimo oppo che a me piace particolarmente tanto per come è fatto che è sempre un camera phone ha una collaborazione con assemblade ha un processore dedicato per la gestione della parte fotografica per la parte video ha una fotocamera 50 megapixel quindi sicuramente un ottimo prodotto poi l'ho scelto perché effettivamente come ho detto mi piace tanto il centro assistenza è vicino casa mia purtroppo quello di huawei ce n'era uno solo in tutta roma ed era dall'altra parte quindi sicuramente l'ho scelto per vari fattori adesso banda le ciance andiamo a vedere quali sono i sistemi per andare a fare il clone dei due telefoni quindi per trasferire i dati da un telefono all'altro importante la prima cosa da considerare è se stiamo facendo un trasferimento da un telefono android verso un telefono android se è così possiamo utilizzare subito il backup di google drive mi raccomando se non l'avete fatto attivate il backup di google drive perché se perdete il telefono o se il telefono è rotto quindi non potete utilizzare lo schermo andrete a perdere tutti quanti i dati o comunque sarà molto più difficile andarli a recuperare per attivare il backup di google drive ve lo faccio vedere semplicissimo andiamo su impostazioni scriviamo backup proprio qui sopra in alto sulla barra di ricerca scendiamo su backup su google e andremo a scegliere backup su google on quindi andiamo ad attivarlo qui andremo a scegliere la nostra mail e andremo a fare attiva quindi quando andremo ad accendere il nuovo telefono ci dirà subito se abbiamo un backup salvato su google drive quindi dovremo loggarci con le nostre credenziali google e il gioco è fatto attenzione perché se avete tantissimi dati tantissime foto tantissimi video la velocità nello scaricare questi dati dipende dalla connessione dati che state utilizzando secondo metodo è quello di collegare i due telefoni un cavetto usb di tipo c anche qui fate attenzione perché se il vostro telefono quello vecchio è particolarmente vecchio sicuramente non avrete una porta usb di tipo c ma una micro usb quindi il cavetto non va bene e nel mio caso siccome la porta un pochettino ballerina io non mi fido per farci un trasferimento dati ultimo metodo che è quello che serve sia per trasferire i dati da un telefono android verso un telefono android o da un telefono apple verso un telefono android è quello di utilizzare l'applicazione clone che si trova sul nuovo telefono andiamo a vedere come funziona bene eccoci qui sulla destra il telefono oppo a sinistra al huawei quindi telefono acceso andiamo avanti qui naturalmente andiamo a scegliere la lingua quindi metteremo italiano nazione italia allora ok ho letto tutto quanto avanti mi devo collegare a una rete mobile naturalmente quindi attenzione il mio wifi metto la mia password messa la password del wifi andiamo avanti prima cosa che fa va a verificare gli aggiornamenti allora copia ok copia app e dati attenzione perché qui se abbiamo il backup sul google drive potremmo fare avanti io invece in questo caso faccio non copiare quindi non copiare qui metto il mio account google che serve sempre qui mi è arrivata la notifica da quest'altra parte ovviamente che devo accettare si sono io così possiamo andare avanti allora sei tu ad avere il controllo papapapapa si accetto accetto aspettiamo che fa la prima configurazione avanti usa posizione consenti scansione invia diagnosi utilizzo ok install aggiornamenti accetto inizia adesso qui se noi andiamo su strumenti o su telefono vediamo su strumenti ho questa applicazione qui ve la faccio vedere clona telefono la vedete clona telefono che questa qui accetto e continuo richiesta con la telefono impostazione dovete accettare tutto ok e adesso dobbiamo andare a installare la stessa applicazione sul vecchio telefono quindi andremo sulla play store andremo a scrivere clona telefono oppo addirittura l'applicazione è la stessa installa quindi ricapitolando accendiamo il nuovo telefono cerchiamo l'applicazione per clonare il telefono che potete chiamarsi su oppo clona su huawei era clonaphone su samsung è un altro adesso non mi ricordo il nome e scaricare la stessa applicazione sul vecchio telefono ok una volta l'abbiamo scaricata apriamo accettiamo anche qui dobbiamo autorizzarla quindi consentire adesso che cosa ci dice l'oppo è il nuovo dispositivo da dove stai migrando da altro android e mi dice inquadra il qr code consenti 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 tutto consenti e andiamo a scansionare ops l'acquisto è spento il qr code adesso si stanno connettendo ok connetti quindi contatti video musica tutto quanto start migration la migrazione è iniziata sicuramente ci metterà un bel po di tempo perché il telefono il huawei p30 pro è pieno di video e di foto aspettiamo che termina e mi raccomando durante il trasferimento tenete sempre sotto controllo lo stato della batteria dei due telefoni lato huawei il trasferimento è terminato adesso dobbiamo attendere il ripristino lato oppo aspettiamo perfetto migrazione dei dati completata perfetto quindi adesso io mi aspetto di ritrovare tutte quante le mie applicazioni ed effettivamente è proprio così quindi come abbiamo visto questa procedura è veloce e indolore adesso andiamo a vedere i contatti quindi effettivamente eccoli qui mi ha riportato tutti quanti i contatti anche le chiamate recenti andiamo a vedere le fotografie quindi spostiamoci sulla parte fotografia quindi foto e anche qui possiamo vedere che ho tutte quante le fotografie anche le ultime fotografie questa l'ho fatta ieri quindi ho anche questa fotografia che ho fatto ieri quindi diciamo che la migrazione è andata a buon fine sicuramente ci saranno alcune applicazioni da andare a rivedere come whatsapp che dovremo andare ad inserire la sim e rifare il login e quindi sicuramente scaricare anche il backup quindi il più è stato fatto sicuramente adesso potremo andare a vedere tutte le applicazioni che ci interessano e sicuramente eseguire il login bene amici eccoci giunti alle conclusioni abbiamo visto una procedura su tre ma secondo me abbiamo visto quella più completa che ci permette appunto anche di passare da telefoni apple verso telefoni android amici come sempre se avete delle curiosità lasciatele nei commenti a presto al prossimo video Flavio